tutto a posto guido stai bene ti faccio anche la foto ma qua si mangia in questo posto qua si ma scusa buongiorno salva di casa non ha da dire niente spazzolino parla anche gente che non lavora che non fa niente spazzolino cosa c'è una messa satanica qua ah ciao come stai tutto bene perché hai portato anche questo tizio perché hai portato anche questo tizio l'ha portato a giro che poi ho sentito che la voce mi viene veramente è un po gay è la voce è proprio toscanaccio puro ma nella voce registrata si sente ancora di più è veramente brutto ma sei un ristorante toscano che vuoi parlare romano no ma neanche sentimi dire l'ultima marina maiana mi è arrivata proprio ora l'ho detto ma prima che dal precedente era proprio naturale sarà vero sarà vero cosa vuoi eh questa beve questa beve questa beve è vero no è vero sta prendendo una mostra piena ma stai con i zocchi non so come la vuole è vero è vero è vero mmm me la mangio tutta è vero 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 è vero